E' un altro Genoa quello che apre il 2017 con il primo allenamento annuale al cospetto dei propri tifosi. Non ci sono più Pavoletti e Rincon già alle prese con gli allenamenti rispettivamente di Napoli e Juventus. C'è Morosini, cui il Brescia ha già dato il nulla osta e che ha già superato le visite mediche, in attesa dell'ufficializzazione in rosso-blu. E si aspetta Andrea Beghetto, esterno sinistro della SPAL, che deve ancora superare l'esito clinico delle visite. Si direbbe per ora un Genoa nettamente ridimensionato, che dovrà rinunciare pure a Gakpe, convocato con il Togo per la Coppa d'Africa che inizia il 14 gennaio, e forse anche a Kofi, titolare della maglia ganese, per lo stesso motivo. Non risponde meglio la Roma, che dovrà rinunciare all'egistiano Salah, nella gara che domenica assumerà per i giallorossi un motivo di rivincita in più, dopo lo smacco subito, in seguito alla lunga corte effettuata a Rincon, che poi è passato in bianco-nero, improvvisamente. Con l'appendice anche del passaggio di Turbe al Torino, per il secondo anno consecutivo, vezzeggiato dai rosso-blu, ma finito la concorrenza. Come di consueto, però, in questi giorni di mercato, sono molte le voci che permeano la società rosso-blu. I nomi sul taccuino del presidente preziosi sono quelli principalmente di attaccanti. Aris Sefcovic, centravanti 24enne svizzero di nascita, bosniaco di origine e titolare della maglia della nazionale scudo crociata, attualmente all'Eintracht Francoforte. Miguel Angel Borca Hernández, attaccante colombiano dell'Atletico Madrid, pallone d'oro del Sud America nel 2016. Radiomercato ipotizza il ritorno di Valon Berami, nato calcisticamente in Italia proprio con il Genoa, di Donadoni, a massa marittima, ma il suo ingaggio è alto. I buoni rapporti con la Juventus per via di Rincon autorizzano ad ipotizzare l'arrivo di Simone Zaza, che dei bianconeri è proprietà, sebbene vesta la maglia del West Ham. Dopo la partenza di Prandelli si allontana da Valencia, ma il suo passaggio in rosso-blu, per via dell'ingaggio, appare più scenico che pratico.